Ben ritrovati amici del centro meteo italiano. Piogge temporali ancora su diverse regioni d'Italia. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per mercoledì 17 novembre. Nuovosità irregolari al mattino su tutta la penisola con piogge temporali soprattutto al sud, anche intensi sulla Sicilia. Piogge sparse anche su Piemonte, Veneto e Lazio. Al pomeriggio ancora tempo instabile su Lazio, Abruzzo e regioni del sud, contemporali sulla Sicilia. Asciutto ma con molte nuvole altrove. In serata è notata maltempo che insiste al sud con precipitazioni localmente anche intense su Puglia, Basilicata e Calabria. Più asciutto al centro nord con nebbie sulla Valpadana. Temperature minime in aumento al nord e all'estremo sud. Massime in rialzo al centro nord e in cado al sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo italiano.